Giovegì 7 settembre dal Vangelo secondo Luca Il Vangelo secondo Luca Al vedere questo Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo Signore allontanati da me perché sono un peccatore Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto Così pure Giacomo e Giovanni figli di Zebedeo che erano soci di Simone Gesù disse al Simone non temere d'ora in poi sarai pescatore di uomini E tirate le barche a terra lasciarono tutto e lo seguirono A differenza dell'Evangelista Giovanni che colloca la pesca miracolosa al termine Della vicenda di terrena di Gesù quando lui è già risorto sul mare di Tiberiele con Pietro Luca colloca questa pesca miracolosa all'inizio della storia Dopo la chiamata dei primi discepoli In ogni caso questo evento segna la vita degli apostoli e trasforma la loro esistenza È bello notare come Gesù non scavalca quella che è la personalità e l'umanità Non chiede a Pietro di fare chissà che cosa Chiede di continuare a pescare in maniera diversa Pescatore di uomini Il Signore non ci chiede di fare cose che sono totalmente al di fuori dalla nostra orbita Da quello che è il nostro quotidiano Ci chiede di farlo con un orizzonte diverso Per Pietro prima erano i pesci poi diventano gli uomini Il Signore amplifica potremmo dire la nostra umanità fino a portarla alla pienezza Ma c'è un particolare di questo brano evangelico che ci colpisce alla fine al termine E cioè che dopo questo evento così grande Come tanti grandi eventi hanno segnato la nostra vita Gesù dopo aver detto a Pietro Non temere d'ora in poi sarai pescatore di uomini Gesù vede che gli apostoli tirano le barche a terra Lasciano tutto e lo seguono L'incontro con Cristo non ti fa continuare la vita di sempre L'incontro con il Signore ti sconvolge la vita Te la ribalta E ti invita ad andare verso una strada completamente nuova Quel lasciare può farci tanta paura Perché vuol dire lasciare sicurezze, lasciare affetti Lasciare cose che crediamo indispensabili Ma in questa nuova chiamata, in questo nuovo orizzonte C'è qualcosa di nuovo appunto Che non ha niente a che fare con ciò che è vecchio Ecco, credo che la parola di oggi ci invita Ci inviti ogni giorno A procedere verso quell'orizzonte che il Signore ci indica Senza la paura di lasciare Cose che in questo momento sembrano essere importanti e fondamentali Nella vita del credente L'unica cosa che conta è la voce del Maestro Che chiama e che manda Tutto il resto è cornice Serve ma fino a un certo punto Può essere indispensabile in certi momenti Ma in altri totalmente superfluo Ciò che non deve mai mancare È la voce di quel Maestro Vieni, seguimi Vieni, ti farò diventare pescatore di uomini Può essere che anche oggi Il Signore ci inviti a lasciare qualcosa E magari per paura non vogliamo farlo Ma siamo chiamati a guardare anche a tutto il bello E il grande che il Signore ci vuole donare Non perché rinunciamo a qualcosa Ma perché Lui ci vuole offrire solamente la pienezza della vita Quella che va oltre il nostro modo di ragionare e di pensare Ma che ci riempie in modo sovrabbondante In questa vita facendola diventare già ora vita eterna Grazie a tutti